Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. L'anticiclone africano ormai tende a ritirarsi verso occidente e al suo posto sono in arrivo venti freschi accompagnati da un calo delle temperature. Il tutto grazie ad una saccatura di origine atlantica che scivolerà lungo i Balcani, lambendo l'Italia e favorendo un clima più instabile e sicuramente più fresco sulle nostre regioni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per sabato 15 luglio. Al mattino nuvolosità sparsa su Puglia centro-settentrionale e Basilicata. La nuvolosità si intensificherà a partire dalle prime ore del pomeriggio, soprattutto sulla Lucania. Qui saranno possibili dei temporali e rovesci sparsi anche di forte intensità. Le precipitazioni interesseranno anche i confini con la Puglia e i settori ionici durante il pomeriggio. In serata saranno possibili rovesci sul Salento e aree ioniche, altrove invece i cieli permarranno poco nuvolosi. Temperature insensibili e calo nei valori massimi, con punte che supereranno i 30 gradi su Foggiano, Materano e Tarantino, altrove più fresco, specie in serata. Venti di tramontana in intensificazione durante la giornata, con rinforzi di maestrale lungo le coste adriatiche. E per quanto riguarda i mari, mossolo adriatico, poco mossolo ionio. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore, Pierpaolo Saracino, per averci inviato questo incantevole tramonto dai caldi colori estivi, il tutto ripreso dal litorale nei pressi di Polignano. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci all'email e al numero whatsapp che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci.